Buonasera a tutti e benvenuti. Il calcio dice no alla violenza contro le donne e non solo il calcio, tutti gli sportivi, i capitani di questa sera. Calabria per noi, Viraghi per loro. Quando si parla di capitani delle partite fra Milano e Fiorentina il pensiero corre inevitabilmente a Davide Astori. Davide Calabria viene in mezzo, un po' solo, si accentra. Adesso la palla è per Musa. No, Musa no, non è riuscito a tenere palla. Attenzione, Pulisic, la grande parata di Terracciano. Aveva subito un gran fallo Musa. Bene, 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 ha subito anche un fallo Pulisic, ma avanza TG Reinders, avanza TG Reinders. TG, 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 bella. Calabria, bella. La parata di Terracciano. Ecco allora la palla messa in mezzo da Pulisic. Pobega, para Terracciano. Ancora Tommy Pobega, poi raccorta, raccorta la sua palla, arriva il tiro di Teo. Murato, Milan stravicino al gol, miracolo di Terracciano. Musa, Musa è bravo, Musa è bravo, rimpallo, Jovic. Jovic di prima bella per Teo. Teo, Teo, rigore. Calcio di rigore, fallo di Parisi su Teo Hernandez. Bravo Jovic, grande assist. Calcio di rigore per il Milan. Fallo su Teo. Goal! Terrandez ha segnato il Milan. 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Meritato, giusto, 1-0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Meritato, giusto, meritato. Bravo Musa per Teo, bravo Musa per Teo. Teo Valcrozza, colpo di testa, la parata di Terracciano. Il colpo di testa di Luca Jovic, anzi no, Semmi Ciuqueze. Rilancia, poi Pobega di testa, Jovic, Jovic prova a girarsi, Pobega, Teo, 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 dentro. Jovic, Jovic. La parata di Terracciano, la parata di Terracciano. Krunic e Camarda al posto di Jovic e Pobega. Marcatissimi a vista i giocatori nostri che devono uscire. Jovic sorride a Francesco Camarda. Francesco Camarda. Palla messa in mezzo, il colpo di testa, no, 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 il tiro. Mura, 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 te lo vi prego. Il Milan ha fatto, ha murato tre volte il tiro, fuori. L'ho vista dentro anche questo. Messo in mezzo, colpo di testa. Cosa ha preso Mignani? Cosa ha preso Mignani? Cosa ha preso Mignani? Ha preso una cosa incredibile, toccato il volto Mike. È finita! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi, bellissima! Bellissima! Uh, com'è bella questa vittoria qui! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti!